Mi chiamo Omar Vizintin, ho 28 anni e vivo a Lagundo. Sono un atleta della squadra nazionale di snowboard cross e atleta olimpico. All'età di 6 o 7 anni forse ero anche l'unico che girava in snowboard e mi ha aperto un mondo totalmente diverso. Potevo iniziare a fare i salti, uscire un po' dagli schemi tradizionali dello sci. La mia prima vittoria di Coppa del Mondo è arrivata molto inaspettata e da lì capisci che adesso fai parte anche tu di quelli migliori. Prima dell'anno olimpico di Sochi 2014 a una gara mi è uscito dal mal di schiena e pensavo di dover smettere di fare snowboard. Dopo un infortunio sono riuscito a riprendermi, a vincere la Coppa del Mondo e so che tra 4 anni c'è di nuovo l'Olimpiade. Per superare le sfide di tutti i giorni la cosa migliore è cercare sempre quell'aspetto positivo e andare avanti. Cerco la rivincita e sono pronto. Seguitemi ai giochi olimpici di Pyeongchang 2018. Grazie. Grazie.